Esplorando Marte, 10 curiosità sul pianeta rosso che forse non conoscevi. Ciao e benvenuto nel nostro canale YouTube. Oggi ti porteremo alla scoperta del pianeta rosso Marte, rivelandoti 10 curiosità affascinante che forse non conoscevi. Preparati ad immergerti in un mondo alieno in cui la scienza incontra l'avventura. Prima di tutto diamo un'occhiata a questo splendido pianeta. Marte, detto anche il pianeta rosso, si presenta come una maestosa entità nel sistema solare. Con un diametro di circa la metà della Terra, questo pianeta roccioso rivela un paesaggio avvincente e misterioso che affascina gli osservatori astronomici da secoli. Il suo colore distintivo, da cui deriva il nome pianeta rosso, è dovuto alla presenza di grandi quantità di ossido di ferro nella sua superficie, conferendogli un aspetto unico nel cielo notturno. La sua superficie è caratterizzata da una serie di formazioni geologiche. L'imponente Monte Olimpo, il più alto vulcano del sistema solare, domina l'orizzonte marziano con la sua massa maestosa. Le pianure basse e sabbiose si estendono a perdita d'occhio, intervallate da antichi letti di fiumi che suggeriscono un passato ricco d'acqua sul pianeta. I canyon profondi e tortuosi, come il Valles Marineris, si snodano attraverso la crosta marziana, testimonianza di potenti forze geologiche che hanno plasmato il paesaggio nel corso di miliardi di anni. Il clima di Marte è estremo e inospitale per la vita come la conosciamo. L'atmosfera sottile e rarefatta è composta principalmente da anidride carbonica, con tracce di azoto e argon. Le tempeste di sabbia possono avvolgere intere regioni, creando enormi nuvole di polvere che si alzano nell'aria e coprono il cielo. Le temperature oscillano tra estremi ghiacciati, con medie di circa meno 63 gradi Celsius, e condizioni più ummiti nelle regioni equatoriali. Nonostante le sfide ambientali, Marte continua ad affascinare gli scienziati e gli esploratori spaziali. Numerose missioni sono state inviate per studiare più da vicino il pianeta rosso e cercare segni di vita passata o presente. Immagini dettagliate della superficie, catturate da sonde e rover, hanno rivelato dettagli sorprendenti, come le tracce di antichi letti di fiumi e i depositi di ghiaccio d'acqua nelle regioni polari. La possibilità di colonizzare Marte è anche oggetto di speculazione e dibattito. L'idea di creare basi umane sul pianeta rosso potrebbe rappresentare un futuro potenziale per l'esplorazione spaziale e per l'espansione dell'umanità al di là dei confini terrestri. Marte rimane un enigma che attende ancora di essere completamente svelato. Attraverso l'indagine scientifica e l'esplorazione umana, continuiamo a scrutare questo mondo lontano, in attesa di scoperte che potrebbero svelare segreti profondi sulla storia del nostro sistema solare e fornire una migliore comprensione dell'origine e dell'evoluzione della vita nello spazio. Ma ora ecco la top 10 delle curiosità che forse non conosci. Al numero 10, la decisione di nominare il pianeta rosso Marte non è stata casuale, ma piuttosto è stata ispirata dalla figura mitologica del dio romano della guerra. La sua atmosfera sottile e priva di ossigeno, la superficie arida e le tempeste di sabbia che spazzano la sua superficie contribuiscono a creare l'immagine di un luogo estremamente avverso per la vita come la conosciamo. Tuttavia, proprio queste caratteristiche peculiari rendono Marte un soggetto di studio e di possibili future missioni spaziali. Gli scienziati si interrogano sulla possibilità di vita passata o presente sul pianeta, oltre a considerare la sua potenziale colonizzazione umana nel futuro. Al numero 9, sapevi che Marte ospita il più grande vulcano del Sistema Solare? Olympus Mons è un'imponente caratteristica geologica su Marte, che si erge con maestosità sulla sua superficie. Questo vulcano, il più grande del Sistema Solare, cattura l'attenzione degli scienziati e degli appassionati di astronomia. La sua imponente altezza di oltre 21 km lo rende un vero gigante tra i vulcani conosciuti, superando di gran lunga le altezze terrestri più iconiche come il Monte Everest. L'immensità di Olympus Mons rivela l'attività vulcanica passata di Marte e offre spunti interessanti per la comprensione delle dinamiche geologiche del pianeta. La sua altezza straordinaria è solo uno dei molti segreti che Marte continua a celare, mentre gli scienziati esplorano e studiano il pianeta rosso. Prima di proseguire, se il video è di tuo gradimento, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Al numero 8, una caratteristica particolare di Marte è la presenza di valli che sembrano incise sulla sua superficie. Questi canyon marziani sono stati formati da una combinazione di processi geologici, tra cui l'erosione del vento e l'attività tettonica. La Valles Marineris presenta pareti ripide che raggiungono altezze di oltre 6 km e una larghezza di oltre 200 km in alcuni punti. Queste caratteristiche geologiche suggeriscono un passato dinamico per il pianeta rosso. L'esplorazione robotica ha fornito immagini dettagliate di queste valli, rivelando dettagli sorprendenti come la stratificazione delle rocce e le tracce di flussi di acqua passati. Questi paesaggi marziani offrono un'opportunità unica per studiare la storia geologica di Marte e cercare indizi sulla possibilità di vita passata o presente nel pianeta. Al numero 7, i ricercatori hanno studiato attentamente le prove di un ambiente acquatico passato su Marte. Le immagini satellitari hanno rivelato antichi letti di fiumi, canyon scavati dall'erosione e depositi sedimentari. Queste caratteristiche indicano che in un tempo remoto potrebbero essersi verificati processi idrologici simili a quelli terrestri. Inoltre le sonde spaziali hanno identificato depositi di ghiaccio d'acqua sui poli marziani, suggerendo la presenza di risorse idriche sul pianeta. Queste scoperte hanno stimolato ulteriori indagini sulle possibilità di vita microbica o di organismi estremofili su Marte, aprendo nuove prospettive per l'esplorazione spaziale e la ricerca astrobiologica. Al numero 6, il pianeta rosso è anche famoso per le sue tempeste di sabbia che possono coprire l'intero pianeta. La più grande tempesta di sabbia mai registrata, nota come tempesta di Marte del 2001, ha avvolto l'intero pianeta per diversi mesi oscurando la sua superficie. Al numero 5, l'indagine sulla presenza di vita su Marte rimane una delle questioni più stimolanti nell'esplorazione spaziale. L'analisi di meteoriti marziani ha fornito alcune indicazioni suggestive di segni chimici che potrebbero essere collegati a forme di vita microscopiche. Tuttavia è fondamentale sottolineare che queste scoperte devono ancora essere completamente confermate e approfondite. Gli scienziati hanno condotto ricerche per esaminare ulteriormente questi segni e determinare se sono davvero il risultato di attività biologiche. Soltanto attraverso future missioni di esplorazione e analisi più approfondite potremo finalmente comprendere se Marte ha mai ospitato, o d'ospita, forme di vita microbiotica. Al numero 4, Marte ospita anche il cratere più profondo del Sistema Solare, chiamato Ellas Planitia. Questo, situato nell'emisfero meridionale di Marte, è un cratere di dimensioni straordinarie. Copre un'area di circa 2300 chilometri di diametro. Questo impressionante cratere da impatto ha dato origine a una depressione profonda circa 7 volte l'altezza del Monte Everest. La sua vastità e profondità lo rendono uno dei luoghi più affascinanti del Sistema Solare. Tuttavia, nonostante l'incredibile spettacolo che offre, le condizioni estreme lo rendono estremamente inospitale per esplorazioni degli esseri umani. Le temperature gelide, l'assenza di atmosfera densa e la radiazione solare intensa, rendono impossibile una permanenza umana a lungo termine. Nonostante ciò, gli scienziati continuano a studiare questo cratere per ottenere nuove informazioni sulla storia geologica e l'evoluzione del pianeta rosso. Al numero 3, la scoperta di gas metano nell'atmosfera marziana da parte del rover Curiosity della NASA nel 2012 ha generato un notevole entusiasmo nella comunità scientifica. Il metano è una molecola significativa perché può essere generato sia da processi geologici, come l'attività vulcanica o idrotermale, sia da organismi viventi, come batteri metanogeni. La scoperta del metano su Marte potrebbe indicare la presenza di vita microbica o processi geologici attivi. Tuttavia non è ancora stata determinata con certezza l'origine esatta del metano, richiedendo ulteriori indagini e analisi dettagliate per risolvere questo enigma planetario. Al numero 2, uno degli enigmi più affascinanti riguardanti Marte sono i misteriosi puntini blu che sono stati osservati nelle immagini catturate dalle sonde spaziali. Queste formazioni insolite, che appaiono come punti di colore blu sulla superficie del pianeta, hanno destato grande interesse e curiosità nella comunità scientifica e nel pubblico. Nonostante gli sforzi per spiegare l'origine di questi puntini blu, finora non è stata trovata una risposta definitiva. Le ipotesi variano dalla presenza di minerari ricchi di metalli a fenomeni atmosferici insoliti. Questi puntini blu continuano ad affascinarci e a stimolare la nostra immaginazione spingendoci a scoprire sempre di più su Marte e i suoi misteri. Al numero 1, infine Marte è stato oggetto di numerosi progetti di esplorazione spaziale umana. Gli esseri umani hanno sognato di mettere piede sul pianeta rosso per decenni e missioni future stanno già prendendo forma per realizzare questo ambizioso obiettivo. Potremmo vedere relativamente presto l'inizio di una nuova era di esplorazione e colonizzazione spaziale. Ecco le 10 curiosità sul pianeta rosso, Marte. Un mondo misterioso e affascinante che continua a stimolare l'immaginazione e a porre domande sull'origine della vita nell'universo. Continua a seguire il nostro canale per scoprire altre meraviglie del cosmo e restare aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio emozionante. E con questo siamo alla fine del nostro viaggio. Qual è la tua opinione in merito? Quale di queste 10 curiosità conoscevi? Commenta qui sotto e ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti.